Mari Mari è il nome del soggetto cui è intitolato questo sesto evento del pomeriggio Venus Camp, Vicky Bomber Trebb, Valkyria, Victoria Secretware, Vongola Jet, Viagolvento Tor, Vision De Veltri in seconda Voce De Venti, Vanity Caf, Vinca Dino, Vanessa Oppi, Vanindal, Vertiginosa Jet, Venus Du Lac parte piano Vision De Veltri, la rottura di Valkyria, la macchina che stacca e si avvantaggia Vicky Bomber Trebb ripiega ma poi sbaglia Vongola Jet e allora è via col Vento Tor che prova a sistemarsi nella scena della battistrada anzi accenna a presentarsi mentre lungo la corda Venus Camp con Domenico Minopoli si assicura la seconda posizione in corda davanti a Vanity Caf sesta in corda Voce De Venti e già a largo e risalita Vanity Indal il passaggio ai primi 400 metri in 29.6 Vicky Bomber allargo via col vento in corda Venus Camp poi Vanity Caf allargo Vanni Indal intanto si è lasciato la corda anche Voce De Venti all'esterno nella scia di Vanity Indal si propone Vanessa OP con Voce De Venti costretta in terza ruota intanto si va lungo l'arco della penultima curva Vicky Bomber Trebb in vantaggio al passaggio degli 800 in 1 minuto 5 decimi 39 di secondo quarto a ridosso sempre via col vento mentre c'è stata la rottura di Voce De Venti mancano 600 metri al termine allunga Vicky Bomber che cerca la fuga a palo lontano nella sua scia via col vento a largo avanza Vanity Indal poi Venus Camp Vicky Bomber a 450 dal palo a 3 di vantaggio su via col vento che all'esterno Vanity Indal poi ancora Venus Camp all'esterno Vanessa OP quindi Vanni Di Caff e Vision De Venti ingresso e la retta di arrivo Vicky Bomber al comando arriva Vanni Indal arriva Vanni Indal che in coppia con via col vento si sbarazza di Vicky Bomber che ha già dato il meglio Vanni Indal passa in vantaggio Vanni Indal alle spalle via col vento Vicky Bomber poi arriva anche Vision De Venti ma intanto è arrivato il palo e Vanni Indal vince facile 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 davanti a via col vento e Vicky Bomber due minuti scarsi sul mio cronometro la media intorno all'1.14.5 14.6 Vanni Indal con René Legati assegno raddoppio per René dopo la vittoria con Zemaria stavolta per il training di Lucio Becchetti i colori sono sempre quelli giallo e azzurro della scuderia Indal la quota al totalizzatore 2.25 eccola qua Vanni Indal che va a vincere facile un bel primo piano per questa bella femmina da Varenne e Ele Code il secondo per via col vento corso molto bene via col vento oggi il terzo per Vicky Bomber Trebb Trebb il secondo per via col vento oggi 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 il secondo per via col vento oggi